Buongiorno ragazzi, adesso vi faccio vedere come si prende l'acqua qua a Los Angeles Allora questa è la mia via, adesso ci dirigiamo alla fine della via, lì all'incrocio con questi due bidoni, vi faccio vedere come li riempiremo e quanto costa l'acqua a Los Angeles L'acqua è un bene primario Pensate a quante bottiglie d'acqua si sprecano ogni giorno quando vengono comprate e poi buttate ma qua ho la soluzione Eccolo, Premium Water Refill Station Drink big, drink healthy Allora guardate qua, si fa così Si mettono i bidoni qua Io ne metto uno in basso per aspettare E uno, vedete, si apre Ecco qua Voilà E si mette sotto il beccuccio esattamente Poi infiliamo il nostro dollaro Vediamo se lo prende Un dollaro Preso E schiacciamo la quantità che ci serve a noi Voilà Vedete, ci ha già dato un po' di resto L'acqua continua a scendere Anche se Questa bottiglia è un pochino più Diciamo un po' più piccola di un gallone Purtroppo Ecco qua Ecco qua Rinchiudiamo Lo mettiamo al lato Anzi lo appoggiamo un attimo qua Per terra Facciamo spazio Via la seconda Qual è Ecco qua In questo caso Usiamo Le monettine del resto Vedete E schiacciamo E schiacciamo di nuovo l'importo Sta uscendo fuori Attenzione Ecco qua Allora ragazzi Allora ragazzi Per me è la soluzione migliore Veloce Economica E soprattutto Salva l'ambiente Andiamo a vedere quanto abbiamo speso però Allora per 5 galloni d'acqua Il costo è 2 dollari E per un gallone Il costo è 40 centesimi Ma quanti litri sono Un gallone Un gallone sono circa 4 litri Quindi circa 10 centesimi al litro Fatemi sapere cosa ne pensate Così è come la compro io Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao Thank you for the happiest year of my life Thank you for the happiest year of my life Thank you for the happiest year of my life Grazie a tutti